Un posto dai toni forti da parte di un sostenitore del gruppo Sapri Democratica ha suscitato polemiche e spinto l'amministrazione comunale di Sapri a presentare querela nei confronti del giovane. A scatenare la polemica è un posto in cui l'amministrazione veniva accusata di aver licenziato un dipendente addetto all'ormeggio dei pontili esclusivamente perché parente del ragazzo. Un'accusa espressa anche utilizzando termini forti che hanno spinto l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Gentile a deliberare per autorizzare a procedere nelle sedi competenti a tutela dell'immagine del comune. Nella delibera si legge come il giovane ha addebitato in maniera falsa e denigratoria condotte immorali ed illecite all'amministrazione comunale, un contenuto ritenuto diffamatorio, gravemente lesivo e offensivo dell'onorabilità dell'immagine e dell'operato del comune di Sapri. Da ciò la successiva reazione del gruppo Sapri Democratica che ha lanciato l'hashtag denunciateci tutti a difesa del proprio sostenitore. Non si fa attendere la replica del sindaco Antonio Gentile. Sinceramente, scrive il primo cittadino, ci dispiace che al gruppo Sapri Democratica non sia chiaro che noi siamo un'altra storia e che il tempo del riduzionismo e negazionismo non ci appartiene. Immaginiamo, continua, a parti invertite cosa sarebbe successo se qualche candidato di Sapri al centro avesse chiamato qualcun altro mafioso. Capiamo bene che per qualcuno sia difficile credere che ancora esistano in politica persone con sani principi, valori, ideali, che riteniamo sia anche il modello da seguire nella vita privata. Le offese sul posto, riferisce Antonio Gentile, derivano da illazioni fomentate ad arte dall'opposizione sempre più esigua, a corto di idee e di scarsa memoria. Nel posto Gentile entra nel merito della vicenda legata al licenziamento del dipendente. Con nota del 3 settembre 2018, spiega il primo cittadino Sapriese, trasmessa al gruppo di opposizione, la legale rappresentante della cooperativa affidataria del servizio precisava che il soggetto destinatario del presunto licenziamento non era stato licenziato in quanto il suo rapporto di lavoro era terminato in data 31 agosto 2017, per scadenza di contratto, cioè ben un anno prima. La querele è d'obbligo, conclude Gentile, la mafia, il male assoluto, il comune di Sapri combatte la mafia, gli atteggiamenti mafiosi e quanti, con fare puerile, giustificano con riduzionismo e qualunquiste buonista.